salve amiche e amici allora vi anticipo che la diretta di stasera non ci sarà perché per un contrattempo il caro ospite è dovuto rimandare quindi sarà rimandata a domani ora molti l'hanno già capito perché l'hanno scritto nei commenti ma si parla di Vladislav Majustrok quindi ci siamo sentiti è stato subito molto gentile e disponibile abbiamo pianificato di farla stasera poi ho avuto un contrattempo quindi è rimandata a domani avevo già preparato delle schede da commentare insieme quindi questi argomenti ve li propongo oggi e alcuni verranno riproposti anche domani sempre che domani non ci siano altre novità da commentare e penso che ci siano visto che come avrete notato la situazione in questi giorni sta evolvendo molto velocemente ci sono tante dichiarazioni politiche e poi fra l'altro oggi è il giorno della memoria del Holodomor che insomma fu un vero e proprio genocidio del popolo ucraino tra 1932 e 1933 anche se le cose iniziarono un po' prima nel 1928 sono fatti terribili che viderò coinvolto direttamente Stalin che smantellò completamente l'economia ucraina la proprietà terriera in favore della unione sovietica del comunismo portando alla fame la popolazione ci sono molte stime sui caduti di questo vero e proprio genocidio non stiamo parlando dei 44 mila caduti nel conflitto in israele ma le stime più prudenti vanno da un minimo di 3,3 milioni di caduti a 5 ma ci sono numeri anche molto maggiori quindi qualcosa comunque una via intermedia sarà qualcosa come 5 milioni di persone portate alla fame oppure letteralmente fatte sparire stiamo parlando di civili stiamo parlando di un'azione atta a smantellare i proprietari terrieri i contadini i piccoli proprietari è un'azione che portò alla fame l'ucraina condotta dalla Russia quindi insomma non è la prima volta che la Russia commette queste azioni ora c'è tanto da dire in questi giorni sulla scia anche delle dichiarazioni di Putin del suo discorso di ieri e del lancio di un missile a medio raggio o indifferente lungo raggio o medio raggio non fa nessuna importanza stiamo parlando di un oggetto in grado di superare i 5 mila chilometri di raggio un missile intercontinentale a tutti gli effetti e le sue minacce hanno coinvolto anche l'occidente ha fatto dei discorsi molto espliciti parlando del sostegno all'ucraina ha parlato di escalation ha fatto insomma il solito discorso ma su questo poi entriamo maggiormente nei dettagli fra poco quindi sentiamo un po' di alcune alcuni frammenti di televisione italiana mi dispiace ve lo dico subito ci sarà un personaggio che non vi piace non vi piacerà perché ormai vi conosco però mi serve come spunto come al solito anche per commentare la nostra società perché penso che sia giusto usare lo so è un po' un pretesto ma è giusto utilizzare la guerra condotta dalla Russia in Ucraina anche come specchio per parlare della nostra società per capire il nostro modo di pensare e soprattutto cosa ci passa la televisione quindi sentiamo un po' questo frammento allora io adesso faccio una provocazione a voi vi faccio riascoltare le parole del reietto del maledetto del putiniano di quello che era stato messo ai margini tutti e che con quello litigato pure io devo dire personalmente ma che diceva delle cose che era il professor Alessandro Orsini con me l'hai invitato l'ho invitato anche con te riascoltiamolo però cosa diceva il professor Orsini bisogna riconoscere la sconfitta bisogna avere il coraggio di dire non l'abbiamo mai fatto Putin in Siria ha sconfitto gli Stati Uniti la Nato e l'Europa e Putin ha già vinto in Ucraina non esiste nessuna possibilità al mondo che qualcuno sottragga l'Ucraina a Putin secondo voi? no scusate se interrompo però allora io non conoscevo la vicenda però ecco ne parlerò poi domani con Vladislav per vedere la sua espressione mi avete già raccontato nei commenti che a un certo punto ha perso la pazienza beh sinceramente è abbastanza condivisibile perdere la pazienza sottragga l'Ucraina a Putin secondo voi è possibile affermare che l'Unione Europea sia un'organizzazione politicamente fallita dov'era la Commissione Europea? quando era chiarissimo che Putin avrebbe sfondato il fronte noi siamo esattamente come Putin se Putin è un mostro sicuramente lo siamo anche noi Putin è una schifosi, un cane allora il punto fondamentale è che tra schifosi noi ci possiamo intendere se noi poniamo Putin in una condizione disperata Putin sventrerà l'Ucraina io avevo un'ammirazione sconfinata per Zelensky era una sorta di supereroe per me ma la mia percezione adesso sta cambiando se Zelensky diventa un ostacolo alla pace per me Zelensky deve essere abbandonato l'Italia deve rompere con l'Unione Europea momentaneamente non è che debba uscire insomma vabbè non andiamo oltre però appunto allora ci sono due elementi di questa dialettica lasciando perdere il personaggio e queste posizioni che sono di un'assurdità senza precedenti voglio dire si commentano da sole non entro nel merito quello che però non voglio commentare è la dialettica a proposito di vittoria come si fa a dire che la Russia sta vincendo che cos'è una partita di calcio non è uno scontro fra due nazioni non è che c'è da tifare per la Russia o per l'Ucraina non è così non si stanno confrontando confrontando su un territorio comune perché si sono dichiarate guerra a vicenda non è questo c'è una nazione che ne ha invasa un'altra che si sta difendendo quindi non c'è non c'è da fare un discorso dialettico di vittoria e da questo punto di vista al di là di aver citato questo personaggio che è così voglio dire pittoresco ecco mi dispiace come sempre per la televisione italiana che continua a cavalcare l'audience con queste dichiarazioni che bisogna c'è voglio dire ci mancano gli analisti militari ci mancano le persone competenti in Italia per chiamare in causa persone così con queste posizioni così estreme comunque colgo l'occasione proprio per citare Vladislav Majustrok proprio per il suo giorno della memoria che ricorda e fra l'altro anche lui oggi cinque ore fa ci commentava queste cose perché evidentemente non gli è sfuggito che dire no in Italia ce le abbiamo tutte chi voleva fare la scienziata nucleare che pensa che la bellezza sia un fardello poi ecco questo è un bellissimo post che un po' riassume anche alcuni commenti che ho ricevuto in questi giorni no cioè da una parte abbiamo un bullo un criminale internazionale che invade gli altri gli altri paesi che lancia missili intercontinentali e quindi la responsabilità è degli americani va bene questi commenti li ho ricevuti anch'io sul mio canale e un po' voglio dire lo capisco ma non lo giustifico perché capisco che per alcuni in Italia non so si è diffusa l'idea che i responsabili sono gli Stati Uniti e quant'altro ma noi siamo in Italia senza gli Stati Uniti l'Italia non esisterebbe comunque giusto per dirla voglio dire io non sono nessuno io sono un semplice studioso di queste cose sono sempre assalito dai dubbi tutte le volte che porto un video a questo canale perché faccio mille critiche a me stesso tutte le volte mi chiedo se ho fatto bene se ho fatto male se quello che ho detto era aveva un fondamento cerco di fare mille controlli incrociati e non sono nessuno però ecco da uno che fa il paninaro comunque non è che mi aspetto grandi discorsi filosofici quindi è questo alla fine no? in ogni caso le dichiarazioni principali che su cui fra l'altro ieri avevo già anticipato sul discorso della traduzione del discorso integrale di Putin sono fondamentalmente tre che adesso poi li vedremo anche da un analista militare vero che ha minacciato l'Occidente direttamente con questi missili con questa azione ha parlato di un'arma nuova imprendibile che ha testato su una città ucraina ha dichiarato di aver colpito obiettivi strategici in realtà ha colpito il locale caldaia di un centro di riabilitazione e il parcheggio di una fabbrica ed è un'arma che non è precisa per definizione la chiamata ipersonica ma ipersonica solo perché tutti i missili balistici sono ipersonici nel senso vanno oltre Mach 5 per forza di cose altrimenti non raggiungeresti l'atmosfera l'alta atmosfera o lo spazio quello che è sono imprendibili? no questo poi lo vedremo meglio nel dettaglio ieri ma già molti di voi hanno risposto nei commenti a questo dettaglio nel senso è possibile intercettarli diciamo secondo il mio punto di vista strategico la cosa più bella da fare sarebbe annichilire i siti di lancio russi e tutti i mezzi che li trasportano con azioni mirate perché prevenire è sempre meglio che curare e in questo spero che l'Ucraina farà le sue azioni da questo punto di vista l'altro metodo è intercettarli durante il tragitto però questo lo puoi fare solo con dei sistemi di difesa molto avanzati che hanno a disposizione solo i paesi europei e gli Stati Uniti che non sono di sicuro stati forniti all'Ucraina questi sistemi sono molto avanzati tecnologicamente lanciano a loro volta un missile balistico che al sua volta lancia una sorta di veicolo che è in grado di manovrare con dei piccoli motorini rcs poi ha un sensore termico che va a intercettare il missile che è stato lanciato e gli oggetti che ha lanciato e poi c'è la fase terminale in cui si concentrano come sempre tutti gli sforzi per abbattere tutto quello che è riuscito a passare per fare questo l'Ucraina ha a disposizione i Nassems i Patriot del Bloc 3 ha a disposizione qualcos'altro dell'era sovietica e i Nassems SEMT questi sono i sistemi che ha a disposizione e chiaramente essendo un territorio così vasto considerando che tutti questi sistemi che ho citato hanno una cittata di non più di 20 km come tangenza e un raggio di circa 100 è chiaro che non possono usarli ovunque e devono posizionarli nelle più importanti città quelle almeno la capitale i centri strategici i centri militari non hanno risorse infinite detto questo la migliore risposta a un discorso di Putin che fra l'altro ieri ecco minacciando direttamente l'Europa e le città europee ha detto ti cito testualmente prima di lanciare i nostri missili avvertiremo i cittadini delle città perché lo faremo a scopo umanitario così daremo il tempo loro di evacuare chissà perché non lo fa mai in Ucraina ogni giorno e questo è un bambino di Odessa in ospedale che è il il reporter più valido che potremmo mai avere e dice sono in ospedale so bene anche se la mia casa è distrutta è danneggiata le finestre sono andate non ci sono più e anche le porte tutto quanto è coperto di rosso terribile per fortuna questo bambino sta bene però è uno dei tanti feriti di Odessa proprio dell'attacco dei famosi 210 droni a cui come sappiamo poi l'Ucraina ha risposto colpendo un centro di comando ok con gli storm shadow altra cosa importante dal Canada arrivano altri sistemi Nassems per difendere proprio l'Ucraina in tutto questo torniamo alla famosa stampa italiana perché come sempre Repubblica ci delizia fornendoci niente di meno che il piano segreto della Germania che si sta preparando alla guerra con Mosca che dire faccio i miei più vivissimi complimenti alla Repubblica perché sono riusciti a mettere le mani sul piano segreto dell'esercito tedesco allora il primo un ministro ministro della difesa scusate ministro della difesa tedesco non so forse probabilmente Repubblica si rifà queste dichiarazioni Boris Pistorius ha parlato oggi a proposito proprio di quello che è successo l'altro ieri notte con il lancio del missile IRPM quindi missile balistico intercontinentale a medio raggio russo ha parlato del discorso di Putin quindi mi sto collegando a quanto ho detto poco fa e ha fatto un'analisi interessante fondamentalmente dice che è sempre il solito Putin è sempre il solito che cosa fa crea ambiguità da una parte accetta un leader europeo a parlare con lui fanno dei discorsi il leader politico europeo chiede di non aumentare il livello di non aumentare l'escalation e poi poche ore dopo Putin fa qualcosa che poi mette tutto quanto in discussione e in subuglio dice di avere armi nuove e di non fornire armi all'Ucraina e poi cosa fa le testa sul campo in qualche modo abbaia e poi morde un poco per creare ambiguità nella dialettica politica in questo modo in tutti questi giorni a venire i leader europei e mondiali parleranno di questa nuova arma parleranno delle minacce di Putin parleranno delle forniture all'Ucraina per cercare di evitare situazioni ben peggiori questo è un po' il discorso detto papale papale quindi fondamentalmente si chiama ambiguità e l'ha fatta anche con un'azione pratica a sto giro vabbè anche se altre volte le ha già fatte ora il discorso che prendo quello che voglio dire e mi collego alle parole di Boris Pistorius è che non stiamo parlando di un ciccio Kim qualsiasi no un pazzo che vive nella Corea del Nord che tiene in scacco matto la popolazione e che ogni tanto lancia missili balistici per fare test nel mare del Giappone tra l'altro ecco per questo posso dire che per conoscenza personale i giapponesi non prendono per niente bene questi test della Corea del Nord però non stiamo parlando appunto di un ciccio ciccio bomba qualsiasi che fa queste idiozie e mette a repentaglio la sicurezza del Giappone stiamo parlando di Putin che minaccia l'Europa e fa un test balistico di missile palistico su una città ucraina il fatto è di una gravità senza precedenti e questo basta a rispondere un po' ai vari pazzi e fanatici putiniani che ogni tanto vengono invitati anche in televisione italiana ora è chiaro che la Russia come anche qui mi collego a qualche commento è chiaro che la Russia non è solo Putin e i pazzi che governano che vogliono questa guerra in Russia ci sono anche brave persone è chiaro anche se purtroppo bisogna dirlo la popolazione è anche responsabile di questo governo voglio prendere spunto proprio da Boris Nemtsov scusate che nel 2015 in piazza organizzò una manifestazione sentiamo le sue parole che sapere che ha qui vei attraverso come vengono in fronte di Ucraina. Tutto la mia sprazione, ma perché è venuto a questo marco, marco della guerra e della libertà? Perché? Perché io sono patriota di strano, perché io sono contro la guerra. Non voglio, perché io sono arrivati a noi in Москву, in Ярославль, in Nижний Новгород, «Gruz 200!» «Чтобы наши матери, наши жены и дети плакали!» «Я не хочу этого!» «Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести!» «Это подлость! Это наглость!» «А главное, это во вред России!» «Я долго думал, какие есть аргументы у Путина для того, чтобы так себя вести!» «Хоть какие-нибудь!» «Самый простой ответ такой!» «Он больной человек!» «Он очень психически больной человек!» «Институт Сербского, Кащенко, врачи, санитары, уколы с утра до вечера!» «Вот что нужно!» «А потом я подумал, нет, он не просто больной человек!» «Он еще циничный и подлый человек!» «Он хочет, используя вот эту операцию по оккупации аннессии Крыма, хочет править нами вечно!» «Мы должны сказать нет войне!» «Мы должны сказать хватит маразму!» «Мы должны сказать Россия и Украина без Путина!» «Россия и Украина без Путина!» «Он последний!» «Слава России!» «Слава Украине!» «Россия!» «Путина превосходы, он непонечательно!» «Поситая Britannic» «Кippа сказала» di quello che rappresenta la nostra democrazia nel mondo i nostri valori per combattere proprio contro le dittature non è proprio il momento delle ambiguità non credo proprio in ogni caso le cose una delle cose più spettacolari degli ucraini devo essere onesto li conoscevo poco prima di questa guerra e sto imparando ad amarli letteralmente e come devo dire il loro spirito di patata la loro grande ironia che voglio dire si commenta da sola questo è un signore che guidava in macchina appena sentito dell'attacco con il missile balistico internazionale e le minacce di putin di utilizzare il nucleare beh cos'è che dice questo signore caro putin perché non ti dai una mossa e ti decidi di atomizzare l'ucraina fallo in fretta perché ho giusto il mutuo da pagare e le bollette c'è veramente un mito signore dice datti una mossa fai quello che devi fare perché io sto ancora pagando il mutuo e le bollette allora parliamo quindi di una cosa un po più seria questo video arriva da la cittadina di lipsi devo togliere l'audio perché altrimenti il video viene bloccato sono delle case in pessime condizioni semi distrutte hanno visto una guerra non è niente di che questo video ok è solo è solo qualche immagine delle case della loro condizione però è importante perché quest'area la zona di kharkiv il villaggio di lipsi fu liberato ed è una delle zone in cui gli ucraini continuano a pestare i russi guadagnano terreno sono riusciti a farsi strada attraverso le le posizioni russe e in quest'area a nord di kharkiv vojshask nonostante vojshask sia stata letteralmente arata al suolo azzerata nonostante questo gli ucraini tengono e respingono i russi altrove non è così però qui sì quindi questo è un piccolo video che trasmette un pochino di speranza e ne abbiamo bisogno testimonia il coraggio e la forza degli ucraini allora come vi dicevo poi ci sono state anche altre forniture dalla spagna arrivano altri leopard circa 9 che servono sicuramente ecco poi domani insieme a vladislav parleremo anche di questo parleremo delle forniture chi sono i paesi che più aiutano l'ucraina in proporzione al loro prodotto interno lordo vi stupiranno le risposte comunque gli ucraini rispondono e fra l'altro in un contesto in cui i russi si è vero che stanno avanzando l'ho già detto più e più volte ma lo fanno comunque perdendo migliaia di uomini si prevede che entro la fine del 2024 i russi avranno qualcosa come un milione di caduti e feriti un milione in termini di numero fra caduti e feriti con cui avranno a che fare questo per esempio il generale gennedy anashkin è stato sollevato dal suo incarico perché a quanto pare falsificava le carte sui progressi nella zona est in questo settore qui dove in poche parole diceva il comando di conquistare terreno e poi questo non avveniva e in quest'area al contrario di quello che è stato il discorso di putin i russi non ottengono progressi almeno in tutto il settore nord est ed est la cosiddetta avanzata dell'armata rossa è ferma da quasi tre anni alla fine non è non ne fanno progressi a sud la situazione è diversa ma perché continuano a mandare la gente nel cosiddetto carnaio ora per quanto riguarda invece l'attacco nella regione di cherson scusate nella regione di kursk dove è stato colpito un centro di comando utilizzando i missili storm shadow beh allora lo ripeto i missili storm shadow finalmente sono a disposizione degli ucraini che possono usarli e sono dei missili tecnologici qualcosa di molto più efficace dei cosiddetti droni che vengono utilizzati perché è un'arma che può penetrare all'interno di strutture rinforzate e all'interno dei bunker è studiata apposta per tagliare la testa ai centri di comando ai generali a fare in modo che l'esercito si ritrovi disorganizzato colpisce i cosiddetti vip colpisce le strutture rinforzate i ponti colpisce i bunker i shelter dove sono per esempio dislocati gli aeroplani allora il rapporto da parte ucraina è che circa 500 soldati si proprio così 500 soldati hanno perso la vita in questo attacco fra cui erano presenti anche 18 ufficiali si parla anche di qualche ufficiale nordcoreano in questo attacco ha perso la vita anche il generale d'armata che faceva riferimento alla regione di kursk quindi questo è stato un grosso colpo devo essere onesto e se devo anche dire la mia questo attacco è stato così bruciante così significativo che probabilmente ha scatenato l'ira del cremlino così tanto da reagire con questa ritorsione del missile balistico per quanto riguarda il rublo ieri era a quota 103 significa che per 103 rubli ti compri un dollaro sta continuando a salire oggi a quota 104 sembra essere in rotta di collo letteralmente ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione del fronte non ci sono grandi cambiamenti riportati se non accessi combattimenti al di fuori della zona occupata dagli ucraini come vedete questi segnalini stanno a indicare che i mezzi russi vengono colpiti al di fuori della zona occupata dagli ucraini questo avviene grazie alla capacità dei missili javelin che hanno una portata di circa 2 chilometri e mezzo dipende dalle condizioni e siamo in questi termini comunque se questi mezzi russi sono stati colpiti vuol dire che gli ucraini sono ben al di là delle loro posizioni e riescono a infiltrarsi anche questi attacchi come vi dicevo ieri si sono ritirati da quest'area ma sono riusciti ad occupare questa il 21 altrove la situazione è molto stabile ma i progressi più importanti i russi li ottengono a Toresk aumentando la loro zona di occupazione di questo ne ho parlato anche ieri e invece nell'area di Kurakove dove si espandono letteralmente macchia d'olio consolidano le posizioni a nord della città in quest'area a nord del ponte e i combattimenti attualmente sono a est aumentano le zone occupate anche più a sud sud est nonostante perdite devastanti con un missile Iskander i russi sono riusciti a colpire un MiG-29 ucraino che è andato perduto era parcheggiato in questo shelter era probabilmente in attesa di rifornimento si era fermato lì per una sosta temporanea non lo sappiamo però circola il video in cui questo missile riesce a colpire il MiG-29 nello shelter quindi che dire la situazione è questa nei prossimi giorni ci saranno sviluppi spero appunto di vederla anche con una prospettiva insieme a Vladislav che possa aiutarci appunto con una visione ucraina di questo conflitto perché appunto penso che sia molto importante più che stare a sentire personaggi televisivi italiani opinionisti vari me medesimo perché anche io sono italiano e penso che sia molto importante sentire le voci dirette di questa che parlano di questo conflitto di persone che vivono sul posto di giornalisti che vivono in Ucraina o di persone che sono cresciute lì la live con Tommy che è stata un grande successo ringrazio davvero tutti quanti per i commenti ringrazio Tommy ha evidenziato proprio come la narrazione che abbiamo sentito nella nostra televisione nella nostra stampa parla di qualcosa da molto diverso dei giorni precedenti a questa invasione di com'era il Donbass e di come vivevano le persone lì la testimonianza di Tommy è stata davvero davvero preziosa quindi sono davvero ansioso di sentire domani Vladislav per quanto riguarda la componente giornalistica ucraina diretta sul campo e quindi come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate mi raccomando mi raccomando iscrivetevi al canale serve tantissimo attivate la campanella per ricevere le notifiche lasciate un mi piace anche a questo video e un abbraccio un buon sabato e alla prossima